Ciao, sono Maura Trenoni e sono di Trento. La mia professione è quella di imparare a fare l'imprenditore. Ho deciso di coniare un po' questo termine dell'imparare a fare l'imprenditore perché ho scoperto in questi anni, in questi quasi 30 anni della mia attività, io ho un'azienda grafica a Trento, che l'imprenditore deve formarsi e deve imparare a farlo. Attraverso la conoscenza di ABTG ho avuto la possibilità di partecipare a un bellissimo percorso, innanzitutto Lifetime, che mi ha permesso appunto di conoscere delle varie opportunità per poter ampliare quella che è la libertà finanziaria e Mastermind, nello specifico, è un ulteriore approfondimento a quello che è il ruolo dell'imprenditore. A me ha dato tanto la possibilità di condivisione con persone al mio pari di tematiche che mi toccano personalmente, che tutti i giorni devo gestire, a volte anche da sole. Quindi sapere che altre persone condividono le stesse mie paure, le stesse mie problematiche e anche i stessi miei desideri, è fondamentale per poter un attimo ridurre quello che è il peso anche di portare a volte questi pesi o questi fardelli.